Allora ragazzi buongiorno, io vi voglio farvi vedere una cosa stamattina, non vi mettete paura ma io se i tipi dei vermi non riesco a innescarli, io non ce la faccio, voi lo innescherete sto vermi? Fatemi capire, no fatemi capire perché io non ho coraggio, io non ho coraggio di annescare questi vermi Come si fa a ammazzare un vermi del genere? Vi devo far vedere che nespole che ci stanno oggi stamattina Ma come fate ad ammazzare un vermi del genere? Come fate? Come si fa ad annescare un vermi del genere? Io non ce la faccio, io non ce la faccio, guardate quanto è grosso Io li rilascio, li butto a tutti a mare, li butto a tutti, ne la faccio Io non ce la faccio a innescare questi vermi Io ne la faccio, io non gliela faccio Io non gliela faccio Io non gliela faccio Come si fa a innescare un vermi del genere Madonna ragazzi Guardate 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 Come si fa a innescare un vermi del genere Come si fa a innescare un vermi del genere, io non ce la faccio a innescare un vermi del genere Voi ce la fate a innescare un vermi del genere? Madonna ragazzi Dai Va Tocca a chiudere l'occhio e innescare Lo so Lo so Per me è difficile Per me è difficile Ma ci riuscirò Dai, 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 dai ragazzi